Hanno aggredito con calci e pugni gli agenti della polizia stradale di Bari che li avevano raggiunti per un controllo dopo aver notato la loro auto ferma sulla corsia di emergenza lungo la statale 16. Un 51enne e un 24enne di Mola di Bari, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati per lesioni, resistenza, minaccia pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. I due si trovano ora agli arresti domiciliari in attesa di processo. Una terza persona, un 16enne incensurato, familiare di uno dei due, è stato denunciato alla procura minorile per gli stessi reati. L'aggressione è avvenuta nella tarda serata di domenica all'altezza del quartiere Iapigia sulla statale 16 in direzione sud. Un equipaggio della Polstrada, durante un normale servizio di perlustrazione, ha notato un'auto di grossa cilindrata ferma sul senso di marcia opposto e tre persone sedute sul guardrail. Gli agenti hanno invertito il senso di marcia per verificare se avessero bisogno di aiuto. I due arrestati, Salvatore Podio e Fabio Chiarelli, probabilmente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, hanno minacciato i poliziotti per poi aggredirli con calci e pugni, sfondando a testate il parabrezza dell'auto di servizio. Sul posto sono poi sopraggiunte altre due volanti, i cui agenti sono stati a loro volta minacciati e colpiti. L'aggressione è proseguita anche negli uffici della Questura, dove nei confronti dei due è stato formalizzato l'arresto in flagranza. I poliziotti della stradale trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo hanno riportato ferite giudicate guaribili in sette giorni.